Mi trovo nel pieno centro di Taranto, in via Giovinazzi, quasi ad angolo con via Pitagora, le adiacenze di una delle entrate della villa Peripato e vedete qui quello che un tempo era un bagno pubblico, un bagno pubblico che ora da anni e anni e anni è abbandonato, l'amministrazione comunale non si è degnata neanche di, non dico murarlo, ma almeno metterlo in sicurezza, chiuderlo, qui vedete in presa diretta è tutto aperto, è diventato un letamaio, un porcile a cielo aperto, guardate un po', quindi qui possono entrare animali di ogni specie, si può buttare di tutto, cioè in pieno centro, accanto alla villa Peripato. Ditemi voi, ma questa è la rinascita che il sindaco Melucci sta seminando? No, perché vedete, io non voglio essere ripetitivo, però sono tante gli obrobri, le mostruosità che si presentano alla nostra vista che io non posso rimanere insensibile e non posso far finta di non vedere e non posso, come si suol dire, mettere la polvere sotto il tappeto, qui in una città normale, nel pieno centro storico, nel pieno centro Umbertino, accanto alla villa, una struttura del genere, un bagno andava riqualificato, ma se non lo volete riqualificare o chissà quando avrete programmato di riqualificarlo, perché ormai le promesse e le programmazioni lasciano il tempo che trovano, almeno dico, Dio santo, vi foste degnati di metterlo in sicurezza, tanto ci voleva mettere un legno, una palizzata, un qualcosa da isolare completamente l'entrata, neanche quello, un porcile, un porcile. Ecco perché poi io dico che Taranto è una città del terzo mondo, perché, che vi piaccia o no, nel terzo mondo ci sono questi scenari e puntualmente la situazione coincide con Taranto. A Taranto ci sono scenari da terzo mondo, questo è un bagno fatiscente da terzo mondo. Peraltro, vedete ancora, ecco prego il nostro operatore, vedete anche puntellato, perché ci sono dei puntelli in legno che appunto sorreggevano la volta, quindi questi puntelli che servivano appunto a mettere, a reggere, a tenere in sicurezza, quindi è anche una struttura che avrebbe bisogno di una rivisitazione, una ristrutturazione profonda, ma nell'attesa di questa ristrutturazione profonda, beh, non si può tollerare uno schifo del genere. Guardate cosa c'è, guardate, bottiglie, ma di tutto di più proprio, qualcosa di osceno nel pieno centro di Taranto. E tu, caro Manzulli, vice sindaco e assessore al marketing territoriale, ha il coraggio di parlare di sentiment, di questa attrattiva, di questa immagine che dà Taranto, questa capacità di attrarre. I turisti, caro Manzulli, vengono e vedono questo schifo. Poi lascio a te le conclusioni su cosa pensano di Taranto. Evidentemente, più che la città, perché la città è bellissima, diranno poveri cittadini, da chi sono amministrati, sono amministrati da Melucci e compagni e questi sono i risultati. Stiamo seminando la rinascita e il meglio deve ancora arrivare, deve ancora venire. Anzi, il meglio viene adesso. Detta la tarantina maniera, si è visto proprio, tradotto, si è visto proprio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS